La prima persona, il centro di tutto questo progetto, deve conoscersi, innanzitutto sono io. E per fare questo ho chiesto aiuto a una psicologa e mi ha dato una grossa mano nel capirmi e riuscire anche a portare la mia persona. Non credevo di provare determinati sentimenti, io soffro e ho sofferto da ansia e attacchi di panico. E grazie a lei sono riuscito a calmare tutto, al fatto che io sono un uomo, un adulto, con le sembianze di ragazzino. Perché per esigenze personali e familiari sono dovuto crescere prima del previsto. E quindi ho ucciso, barra nascosto, il bambino che ognuno di noi ha dentro, che sarebbe appunto il bambino delle cazzate, che fa le stronzate, che si diverte con niente. E l'unico modo che ho per tirare fuori questo bambino che ho dentro è quello appunto di buttarmi in questo progetto. Sono riuscito a registrare una conversazione con la mia psicologa e spero possa far chiarezza molto di più questo rispetto al video precedente. Il format sarebbe, siccome io penso di essere bravo ad ascoltare le persone, vorrei farmi una cultura di quello che hanno le persone da raccontare. Cioè se le persone che a fianco hanno una storia da raccontarmi, che è diversa da quella che mi sono creato negli anni conoscendoli. Sono più freddo nei confronti delle persone che so che non mi badaneranno mai. E' lo scopo che ora mi sono dato per questi tre, quattro mesi di cui starò occupato a fare questo appunto. Come ho sempre fatto e come farò, mi sono buttato. E mi continuerò a buttare. Spero non da pazzi.